Musica classica Musica lirico-sinfonica, musica corale, musica sacra e grandi, grandissimi artisti del panorama internazionale solo per citare alcuni dei nomi Costantin Bocchino per il pianoforte Giudice del Perua per la chitarra Emma Corby per la musica antica e come tutti gli anni nel festival la settimana chitarristica ha grandi personaggi che la verranno ad animare nelle città di Bevagna e di Spello quest'anno grande novità la mostra di Liuteria sabato 23 e domenica 24 di agosto ospiterà maestri liutai provenienti da tutta Europa in particolare segnalo il concerto di venerdì 22 agosto a Bevagna che si intitola Travelling from Spain to South America che sarà composto da tutta una serie di quintetti per quartetto d'arche e chitarra Ancora due produzioni sinfoniche nella seconda parte del festival la prima il 21 di agosto dedicata alla lirica quindi un genere particolarmente amato a Bevagna l'orchestra internazionale di Roma diretta da Alessandro Viale interpreterà alcune delle aree d'opera più importanti e conosciute il secondo appuntamento invece programmato nella chiesa di Sant'Andrea a Spello per il 28 di agosto vedrà sempre protagonista l'orchestra internazionale di Roma diretta questa volta però dal maestro Antonio Pantaneschi nell'esecuzione della Messa di Gloria di Giacomo Puccini un'opera che il maestro ha composto in epoca giovanile e che è di raro rarissimo ascolto ancora grandi interpreti per la musica antica la grandissima Emma Kirby sarà con noi lunedì 25 agosto al Teatro Torti di Bevagna e sabato 30 agosto invece un appuntamento dedicato alla polifonia di scuola romana la chiusura del festival anche quest'anno come tutti gli anni è dedicata alla musica sacra quindi domenica 31 agosto saremo nuovamente a Spello nella bellissima chiesa di Sant'Andrea e verranno eseguiti titoli di Vivaldi carissimi e anche di Suori Isabella Leonardo quest'anno il festival ha visto la donna protagonista non solo come esecutrice ma anche come compositrice grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti